Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al webinar di oggi. Chiedo a tutti gli utenti un primo feedback audio video, segnalate utilizzando la chat eventuali problemi tecnici. La stessa chat può essere utilizzata anche per inviare quesiti ai nostri relatori. Il materiale didattico del webinar di questo pomeriggio sarà online a partire da domani nella sezione documenti e pubblicazioni, nell'area materiale didattici del nostro sito IFEL. I relatori di oggi sono il dottor Franco Mantino e la dottoressa Katia Zumpano del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi economica agraria, CREA, che salutiamo. Buongiorno a tutti e benvenuti. Introdurrà oggi il dottor Francesco Monaco, responsabile del Dipartimento Fondi Europei e Investimenti Territoriali per l'IFEL. Io, allora, durante il corso del webinar vi invieremo in più battute il link per poter scaricare da domani il materiale didattico e vi ricordo che l'intera registrazione sarà a disposizione anche sul nostro canale YouTube, di cui anche di questo vi invieremo il link per poter rivisualizzare il nostro seminario. Io allora non rubo altro tempo, lascio la parola al dottor Monaco e auguro a tutti i partecipanti di un buon webinar. Prego Francesco, a te la parola. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti così numerosi a questo webinar. Ringrazio i colleghi Mantino e Zumpano per il contributo che ci daranno durante questa giornata. Io mi limiterò a definire un po' l'obiettivo di questo webinar e dirò qualcosa anche su come proseguirà questa attività della Fondazione IFEL sul tema dello sviluppo rurale. Devo dire che con la nostra fondazione IFEL, il mio dipartimento, ma anche il dipartimento per la politica territoriale, economia territoriale, abbiamo un punto di osservazione da diversi anni sul tema della politica di coesione e quindi su questo tema sviluppiamo una serie di attività di analisi, di monitoraggio, di supporto anche ai comuni che sono interessati a questa importante politica dell'Unione Europea e tradizionalmente per il fatto che gli strumenti di sviluppo rurale fino a questo ciclo di programmazione e lo specifico fondo che il FEAF era fuori dalla coesione, siamo stati portati a non considerare, a tenere fuori dall'interesse nostro l'attenzione su questo importante strumento. Come è noto dal 2014 con l'avvio della nuova programmazione, i fondi strutturali dell'Unione Europea, i 5 fondi sono stati unificati, quindi stanno tutti dentro il cappello degli strumenti di investimento, gli strumenti strutturali di investimento dell'Unione Europea, lo Stato italiano ha integrato all'interno dell'accordo di partenariato 14-20 gli obiettivi comuni di tutti gli strumenti, per cui è nata la necessità di focalizzare l'attenzione sui programmi di sviluppo rurale, non che non sapessimo che all'interno di questi programmi sono stati sempre erogati risorse consistenti per consentire ai comuni rurali in particolare di fare delle operazioni, degli investimenti che siano coerenti con iniziative finalizzate a sviluppare l'occupazione e la coesione territoriale, ma dal 2014 tutte le attività che si svolgono anche dentro questo mondo dello sviluppo rurale stanno dentro gli obiettivi generali dell'accordo di partenariato e della politica di coesione. Da qui la nostra iniziativa di creare un punto innanzitutto di osservazione e di comprensione di questo fenomeno per capire meglio quante risorse, quale iniziative, con che tipo di esito, quale problematiche afferiscono a questo particolare strumento, con i colleghi della CREA in particolare nell'ambito di un programma di supporto e assistenza tecnica ai programmi di sviluppo rurale, come noto si articolano in un programma nazionale e in programmi regionali e che cubano risorse consistenti nel ciclo di programmazione, tratta circa 10 miliardi di Euro, ma mi correggeranno poi i nostri amici tecnici. Nell'ambito di questo programma di rete rurale che offre supporto e assistenza tecnica alle autorità di gestione per migliorare la qualità della programmazione e dell'attuazione di questo strumento, tramite questo programma abbiamo avviato un'attività di ricerca che è focalizzata su 5 regioni per capire nel dettaglio come funziona questo strumento, che tipo di interventi, di investimenti si fanno nei comuni e con quale esito, di questo credo poi vi parlerà più nello specifico la collega Katia Zumpano con cui abbiamo operativamente avviato questa attività. La cosa che volevo dire è che pertanto questo nostro interesse sullo sviluppo rurale si tradurrà in un rafforzamento della nostra attività di osservatorio. Naturalmente come per gli altri fondi strutturali e gli altri programmi abbiamo notato che esistono problemi sia di qualità della programmazione, che naturalmente si sviluppa a geometria variabile nelle diverse regioni, in ragione anche del diverso tipo di governance che le regioni riescono a costruire. con questi programmi, sia a livello di programmazione sia di attuazione abbiamo problemi che naturalmente abbiamo interesse a superare perché essendo integrati nella politica rurale anche gli obiettivi di politica di coesione deve stare naturalmente tutti insieme e deve tutto essere finalizzato a conseguire gli obiettivi di servizio, di miglioramento della qualità dei servizi pubblici, delle condizioni di contesto per le imprese, nello specifico delle imprese agricole e quindi tutto deve essere tenuto dentro un quadro di maggiore conoscenza e di maggiore capacità di intervento e di supporto per migliorare la qualità di questa programmazione e anche per velocizzare i processi di spesa, di attuazione per meglio focalizzare i risultati attesi delle diverse iniziative. Un'altra cosa che voglio dire riguarda il fatto che noi stiamo praticando, anche con i colleghi che parteciperanno a questo webinar, che ringrazio di nuovo, stiamo praticando già un'esperienza di integrazione o di possibile integrazione fra politica ordinaria, investimento sui fondi strutturali della coesione, quelli tradizionali, il FESD, il Fondo Sociale Europeo e i programmi di sviluppo rurale. Lo stiamo facendo dentro il contesto della strategia nazionale interne, io poi credo che soprattutto Franco Mantino ci darà qualche cosa anche su questo punto specifico e lì stiamo provando appunto a conciliare regole, strumenti che naturalmente pur essendo integrata a livello di obiettivi generali mantengono una loro specificità e quindi necessitano di un'attenzione che deve essere necessariamente differenziata. L'altra cosa che sappiamo e che abbiamo appreso anche da queste attività iniziali di ricerca che abbiamo avviato in collaborazione con CREA è che la nostra attenzione dovrà necessariamente concentrarsi su due grandi versanti di intervento, un intervento che le autorità di gestione regionale fanno attraverso azioni che cadono sui comuni e con interventi che vengono selezionati a banto, sono specifiche misure e poi tutti hanno una misura specifica che promuove investimenti all'interno di aggregazioni locali, gruppi di azione locale che nell'ambito di una propria strategia d'area definiscono gli interventi per lo più di miglioramento del contesto, infrastrutture, servizi rivolti specificatamente ai comuni. Quindi sappiamo che esistono queste problematiche che sono parzialmente differenti a seconda che noi ci collochiamo dentro un'attività di analisi dentro le misure a gestione a regia regionale e altre problematiche invece che devono essere studiate, approfondite dal punto di vista della gestione attraverso i gruppi di azione locale. Complessivamente lo sforzo che intentiamo realizzare è finalizzato, uno a dare un contributo se possibile, come dicevo prima, a migliorare la qualità della programmazione, se possibile stimolare la partecipazione locale dei comuni e delle aggregazioni, delle associazioni dei comuni alla definizione degli obiettivi strategici regione per regione, area per area da un lato, dall'altra l'obiettivo è di focalizzare l'attenzione su quelle che possono essere questioni critiche che riguardano il ciclo degli appalti, tempi di realizzazione degli interventi, le modalità di renti e contazioni, insomma tutto quello che afferisce la velocizzazione della spesa. Questo è in realtà uno, chiudo, il primo webinar su questo tema, ce ne saranno altri, molti avranno carattere informativo, credo che qualcuno avrà carattere anche operativo se valuteremo che nell'ambito di questa ricerca sia necessario ricorrere a questo strumento per approfondire analisi che comunque noi faremo con interventi in collaborazione con le autorità di gestione e con le ANCI regionali nei suoi territori e comunque in ogni caso il materiale, il patrimonio informativo di conoscenze, i rapporti che produrremo, le indicazioni, tutti gli orientamenti che verranno fuori da questo lavoro di ricerca che faremo saranno disponibili su questo sito. Quindi io chiudo qui, vi ringrazio ancora per la partecipazione, vi auguro buon lavoro e speriamo che all'esito di questo primo seminario si abbia già un quadro un po' più definito per con i successivi approfondire specifiche tematiche che possano essere di interesse sia dal lato programmazione, quindi per l'autotica di gestione sia dal lato attuazione, quindi per i beneficiari degli interventi. Vi ringrazio a questo punto, vi auguro buon lavoro e do la parola a Franco Mantino. Buon pomeriggio, sono Franco Mantino, lavoro al CREA da diversi anni e prima ancora all'INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria e mi occupo di politiche di sviluppo rurale, di processi di sviluppo rurale, sia sotto il profilo degli studi, delle analisi nelle diverse realtà, sia sotto il profilo delle politiche che vengono concepite e realizzate nelle diverse aree rurali. Io cercherò oggi di fornire un quadro piuttosto generale di quelle che sono tutti quegli interventi che vanno sotto questo cappello di politiche di sviluppo rurale. Naturalmente poi se ci sono esigenze di approfondimento sono disponibili a fornire anche suggerimenti, indicazioni delle eventuali pubblicazioni dove cercare ulteriori informazioni. Intanto quello che dirò grosso modo è basato sull'esperienza che ho raccolto in questo libro e poi anche che ho aggiornato negli ultimi due anni, seguendo le politiche di sviluppo rurale, come si sono evolute nell'ultima programmazione. Come diceva Francesco prima, la politica di sviluppo rurale e il fondo che l'alimenta, che è questo fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, che ha l'acronimo sintetico di PEASDRA, stanno dentro un cappello comune, un cappello comune che è quello delle politiche comunitarie per gli investimenti, però stanno sotto un cappello comune con una propria autonomia. Questo è stato sempre una delle caratteristiche delle politiche di sviluppo rurale, fin dall'inizio. di essere all'interno di una politica complessiva che favoriva la coesione e lo sviluppo, però avere dei target e dei destinatari molto specifici. Nell'ultimo quadro strategico comune, quello che è stato definito per la programmazione 2014-2020 e che a livello nazionale è stato definito all'interno del contratto di partenariato, questo documento nazionale che fissa le strategie e le linee per gli interventi delle politiche comunitarie comunitarie in ogni paese, all'interno di questo quadro troviamo non solo i programmi operativi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESDRA, e dal Fondo Sociale Europeo, SE, ma troviamo anche i piani di sviluppo rurale, che hanno una loro caratteristica, una loro autonomia, dei loro contenuti e hanno una struttura molto diversa, molto, molto diversa dai programmi operativi invece finanziati con il FESDRA e il Fondo Sociale. In realtà abbiamo anche un altro fondo che è il FEAMP, che è il Fondo Europeo per la Pesca, un fondo molto piccolo con risorse finanziarie certamente meno cospicue degli altri e che ha come obiettivo quello di finanziare un programma nazionale sia per la pesca marittima sia per la pesca interna, quindi anche con delle risorse per lo sviluppo delle attività di pesca interna. Quindi il sistema di programmazione è un sistema di programmazione unico che sotto lo stesso quadro contiene più fondi e più programmi. Naturalmente l'obiettivo di questo quadro comune è quello di trovare una coerenza tra tutto, nonostante ogni fondo abbia una propria autonomia, tutti i fondi devono rispondere alla realizzazione di un quadro di obiettivi prioritari che sono comuni, sono 11 obiettivi prioritari che sono definiti nell'accordo di partenariato che sono validi per l'Italia ma sono validi anche per gli altri paesi europei. All'interno dell'accordo di partenariato troviamo anche il quadro delle risorse, delle allocazioni tra i vari fondi e tra i vari programmi e i risultati attesi per ciascun programma. Troviamo programmi diversi sia sotto il profilo dei fondi sia sotto il profilo della titolarità perché abbiamo programmi regionali e programmi nazionali e questo anche come vedremo il caso del FEASTR che ha 21 programmi regionali più due programmi nazionali. Il FEASTR ha delle priorità molto specifiche rispetto agli altri fondi. Le politiche di sviluppo rurale mirano a realizzare sotto questo quadro comune sei priorità specifiche che sono nel nuovo quadro 2014-2020 quelle che vedete nella parte destra di questa slide che vanno dal trasferimento della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo, lo sviluppo della competitività del settore agricolo in particolare ovviamente sia nella parte che riguarda le aziende agricole sia per la parte che riguarda le industrie agroalimentari, l'organizzazione della filiera, quindi un approccio per tipo di prodotto che parte dalla struttura produttiva e arriva alla commercializzazione e poi abbiamo due priorità molto rilevanti che riguardano i rapporti tra agricoltura, foreste e ambiente, cioè il contributo che l'agricoltura può apportare al mantenimento, alla conservazione degli ecosistemi generali e che può apportare anche all'efficienza dell'uso delle risorse, per esempio l'energia rinnovabile, per esempio il risparmio idrico, per esempio la riduzione delle emissioni, perché come sapete, come molti poi sapranno, l'agricoltura viene considerata come uno dei settori che ha fisicamente un rapporto con le risorse ambientali molto stretto, perché agricoltura, acqua, suolo, emissioni sono strettamente legate e nello stesso tempo ha anche un rapporto molto forte con la biodiversità, per esempio. Quindi ci sono nei programmi delle interventi che devono rispondere a strategie di salvaguardia sia degli ecosistemi sia del migliore utilizzo delle risorse. E infine come ultima priorità, ma non ultima in ordine di importanza, è legata al rapporto tra agricoltura, aree rurali e sviluppo locale, perché anche l'agricoltura e l'agroalimentare hanno un rapporto molto stretto con lo sviluppo locale e quindi abbiamo una priorità che riguarda l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico. Ogni programma quindi, sia nella parte dell'accordo di partenariato, sia nella parte poi dei programmi regionali, è strutturato in modo tale da rispondere a queste sei priorità che sono obbligatorie per tutti e per tutte le regioni. Non sono facoltative, ma sono obbligatorie e ogni programma le deve necessariamente prevedere. Uno delle questioni che viene spesso sottolineata è il rapporto tra i programmi di sviluppo rurale e poi i possibili destinatari e le possibili modalità di applicazione di questi programmi. I programmi di sviluppo rurale non finanziano soltanto, chiaramente hanno come destinatari principali i produttori agricoli, l'industria agroalimentare, ma non solo, non solo, anche gli operatori che lavorano nelle aree rurali. Il modo in cui vengono applicati i programmi di sviluppo rurale non prevedono soltanto bandi destinati ai singoli operatori, quindi ai singoli agricoltori, alle singole industrie, ai singoli operatori rurali in generale, ma i programmi di sviluppo rurale prevedono delle modalità di applicazione che i programmi ipotizzano anche delle progettazioni integrate a livello locale. Voi tutti conoscete in passato gli approcci come i patti territoriali, come i progetti integrati territoriali. Uno dei più tipici approcci partenariali e integrati sul territorio è quello dei programmi leader, che hanno, come vedremo più avanti, una lunga tradizione negli interventi dello sviluppo rurale. Nel caso dei programmi operativi del FESR e del Fondo Sociale, un'analoga modalità di intervento è quella degli investimenti territoriali integrati che riguarda la parte non agricola. Nel caso invece dei piani di sviluppo rurale noi possiamo avere diversi tipi di approcci integrati, ben quattro tipi di approcci integrati. Questo è importante perché lo dico e lo metto in risalto? Perché questo è importante perché all'interno di questi approcci partenariali il ruolo dei comuni può essere significativo. Noi abbiamo quattro tipi sostanzialmente di approcci partenariali. Abbiamo, come ho detto, i progetti che sono definibili come progetti leader, che hanno appunto una lunga tradizione e che si articolano in piani di sviluppo locale. Poi abbiamo anche approcci integrati per singole filiere. Quindi, per esempio, la filiera parmigiano-reggiano può avere una rilevanza nel programma dell'Emilia-Romagna e partecipare a dei bandi che sono per progetti di filiere. Filiere sia agroalimentari sia non agroalimentari, cioè non food. Quindi filiera intesa nel concetto di tutte le fasi che dalla produzione arrivano alla commercializzazione del singolo prodotto. Poi abbiamo un altro approccio, questo recente, nella nuova programmazione 2014-2020 e quello dei partenariati europei per l'innovazione, dove sono favoriti accordi tra imprese, istituti di ricerca, industria agroalimentare, per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi. Oppure possiamo avere progetti collettivi di cooperazione tra soggetti più vari, pubblici e privati, per esempio per interventi nel campo del sociale, sempre legati all'agricoltura o interventi per esempio nel campo ambientale, progetti innovativi di recupero di risorse rilevanti sotto il profilo ambientale. Quindi vedete il piano di sviluppo rurale in genere è associato agli interventi diretti a favore dei singoli imprenditori agricoli, invece in realtà, soprattutto nell'ultima programmazione, ma questo è un processo che in realtà è maturato negli ultimi 10 anni, in realtà quello che succede è che non ci sono solo finanziamenti diretti alle imprese agricole, sì ci sono anche quelli, ma ci sono anche approcci che vanno oltre l'impresa agricola e questo è un percorso, un'evoluzione che la politica di sviluppo rurale ha subito in modo molto forte e confermerà sempre di più anche nelle future riforme, nella futura riforma di cui si sta già cominciando a parlare. Quindi abbiamo diversi approcci integrati, abbiamo filiere corte, filiere tradizionali, filiere non food, accordi agroambientali d'aria, progetti basati su approcci cooperativi vari e infine quelli per cui lo sviluppo rurale è forse più noto, i progetti leader, che oggi si chiama sviluppo locale partecipato, è una traduzione di community led local development. Tra le novità della nuova programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale, vi sono anche nuove misure, quali per esempio quella che si è una delle più importanti, che si è affermata nell'ultima programmazione è quella della misura che favorisce la gestione del rischio, cioè attraverso la costituzione di assicurazioni e fondi mutualistici consente di ridurre le perdite di reddito degli agricoltori derivanti da eventi atmosferici o crisi economiche. Abbiamo anche una misura molto interessante che è una misura che favorisce gli start up di nuove imprese da parte di giovani agricoltori sia in attività agricole sia in attività non agricole e questa misura prevede un aiuto iniziale di 70 mila euro per giovani agricoltori e 15 mila euro per le piccole aziende. E poi quelli che prima definivo approcci integrati nuovi, cioè le filiere, filiere corte, filiere agroalimentari, reti di impresa, partenariati per progetti locali, questi tipi di approcci sono interessanti perché il supporto pubblico non è finalizzato soltanto ed esclusivamente a sostenere gli investimenti nelle aziende, ma è finalizzato anche alla copertura dei costi della cooperazione e dei costi di preparazione di questi progetti integrati. Quindi la cosa interessante è che quei gruppi che vogliono predisporre progetti di questa natura, che sono progetti un po' più complessi, hanno anche un sostegno in termini di finanziamento degli studi preparatori, dell'animazione necessaria sul territorio, della gestione in corso d'opera del gruppo che si forma per gestire il progetto. Quindi anche tutti i costi associati sia alla predisposizione che alla gestione del progetto. I programmi di sviluppo rurale sono una delle cose più complicate che potete trovare sul mercato della programmazione perché sono difficili da leggere, a parte il fatto che sono estremamente lunghi, parliamo di programmi di 800-900 pagine, qualche programma ha anche 1000 pagine, che non troverete mai nei programmi operativi del FED e del Fondo Sociale. Questo perché? Perché il modo in cui sono concepiti e preparati i programmi risponde a delle regole comunitarie che sono molto strette, molto stringenti e molto più dettagliate di quelle che invece operano per gli altri fondi. Per cui troverete un piano di sviluppo rurale articolato non solo nelle sei priorità di cui vi ho parlato, ma anche all'interno delle priorità focus area, misura e addirittura sottomisura in qualche caso. Preferisco non entrare in questo estremo dettaglio perché la presentazione diventerebbe di una noia estrema sia per me che per voi. Voglio soltanto dirvi che nel momento in cui vi apprestate a guardare un piano di sviluppo rurale dovete sapere che nella sua sostanza il piano è articolato in queste tre grandi articolazioni. Il piano di sviluppo rurale in ogni regione è anche un piano che ha dei target territoriali, nel senso che ogni regione ha suddiviso il territorio in base a delle categorie di aree rurali concordate insieme, definite dal livello nazionale e quindi nell'accordo di partenariato. categorie di aree rurali in sostanza sono quattro le categorie più importanti che individuano differenze di sviluppo tra le aree rurali. Le aree rurali non sono solo quelle più povere, quelle rigate diciamo, quelle che quando si dice aree rurale uno immagina è un'area abbandonata, no, le aree rurali sono molto diverse tra di loro, abbiamo in Italia un panorama estremamente diversificato sia da nord a sud sia all'interno della stessa regione, per cui trovate diciamo almeno fatta eccezione per i poli urbani, in cui trovate agricoltura anche lì, perché anche nei grandi poli urbani, pensate solo al comune di Roma, quanta agricoltura c'è nel comune di Roma, però il comune di Roma è chiaramente definito come un polo urbano, ma non solo il comune, anche tutta l'area metropolitana romana è definita come un'area non rurale, cosa estremamente sbagliata, perché anche all'interno di questa area metropolitana c'è un'agricoltura molto intensiva, molto interessante, che ha dei rapporti con la stessa area urbana in termini di scambi, di mercato e di possibilità di sviluppo. Quindi una prima categoria è quella dei poli urbani, dove ripeto trovate non solo case, edifici e industrie, ma trovate anche terra, agricoltura molto intensiva. Una seconda categoria è quella delle aree ad agricoltura specializzata, che è immediatamente circostante i poli urbani e una terza è quella delle aree intermedie, per esempio le aree viticole, le aree di collina, le aree dove ci sono anche produzione di qualità, pensate alla Toscana per esempio, e poi le aree più interne, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, che in questa cartina voi vedete stanno nella parte più scura, nella parte di colore più scuro. Quindi ogni programma ha una declinazione di queste differenze territoriali tra le aree rurali e a che cosa serve questo? Serve fondamentalmente a dire che per alcuni tipi di misure l'applicazione avviene solo in alcune aree e anche i criteri di accesso delle singole aziende sono diversi a seconda della localizzazione dell'azienda nelle diverse aree. Quindi ci sono criteri di priorità nella selezione delle aziende a seconda se le aziende si trovano in un'area oppure un'altra. Per esempio, faccio un esempio così mi spiego meglio, tutte le aziende che sono localizzate nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, in molte regioni hanno dei punteggi nella selezione che tendono a favorirle, hanno delle priorità, quindi hanno un punteggio aggiuntivo per il fatto di stare proprio in un'area con problemi di sviluppo, perché altrimenti le aziende non sono tutte uguali nel mercato dell'accesso delle politiche e in qualche modo quelle che stanno nelle aree con problemi di sviluppo devono avere un qualche sostegno anche nella selezione. Quindi questo è il motivo per cui è stata fatta una certa graduazione. Non è stato facile inserire questa definizione di aree rurali diverse, ma è stato un punto estremamente importante nella programmazione, perché quando si programma si deve tener conto delle differenze che esistono tra i diversi territori. Per esempio il programma LIDER, e questo è un altro esempio, viene applicato soprattutto nei territori che abbiamo definito in questa prima cartina, nei territori rurali intermedi o nelle aree con problemi complessi di sviluppo, quindi nei territori di colore blu o di colore nocciola. Nelle altre aree il programma LIDER non può essere applicato, perché in queste aree ci saranno altre fonti finanziarie, altre risorse in generale a cui le aziende e gli operatori che lavorano in queste aree potranno attingere. Tornando al programma LIDER, di che cosa si tratta? Si tratta di un programma che ha una lunga tradizione, come ho già detto, parte dagli inizi degli anni 90, ha diverse edizioni e nell'ultima edizione conserva un po' tutte le caratteristiche delle precedenti esperienze. È basato fondamentalmente su che cosa? Sulla costituzione di un gruppo che si chiama Gruppo di Azione Locale, il cui acronimo è GAL, Gruppo di Azione Locale che è basato su una cooperazione, un partenariato misto pubblico-privato in cui ci sono quasi sempre i comuni, molti di voi sapranno ovviamente di cosa sto parlando, e ha come obiettivo quello di finanziare un progetto di area, non singole iniziative, ma un progetto di area. Ora, qual è la novità rispetto al passato in questa programmazione? E' che questo approccio qui è stato trasferito dalla politica di sviluppo rurale anche agli altri fondi, quindi ha smesso di interessare almeno potenzialmente solo le aree rurali, per trasferirsi anche alle aree non rurali o alle aree di sviluppo industriale, alle aree urbane. Quindi applicato al di fuori del contesto rurale. Un'altra importante novità di questa programmazione è il rapporto tra lo sviluppo rurale, politica di sviluppo rurale e le aree interne. Sulla strategia delle aree interne, penso che ci sarà stata qualche altra presentazione, ma si tratta fondamentalmente di una strategia che ha, per certi aspetti, molta simiglianza con il programma leader, perché è basata sulla definizione di alcune aree e su progetti che hanno una localizzazione molto precisa. Ci sono, in questa nuova strategia delle aree interne, che è promossa a livello nazionale, ci sono molte relazioni tra la politica di sviluppo rurale e questa strategia delle aree interne. Il programma di sviluppo rurale interviene nelle aree interne in almeno tre modi. Interviene o con risorse specifiche, quando per esempio si parla di montagna, tutte le risorse che vanno alla montagna sono un contributo potenziale del piano di sviluppo rurale, o attraverso i gruppi di azione locale, e quindi il programma leader, oppure con la previsione di priorità per quelle aree che sono state definite interne nella legislazione, nella classificazione nazionale. Qual è la differenza tra programma leader e aree interne? Fondamentalmente, dal punto di vista territoriale, ci sono molte similitudini, perché come ho detto prima, il programma leader si applica su tutti i territori rurali con problemi di sviluppo e nelle aree intermedie, quelle aree blu e quelle aree nocciola che abbiamo visto nella cartina. La strategia di aree interne si applica grossomodo nelle stesse aree che sono aree definite periferiche e ultraperiferiche. Ci sono molte sovrapposizioni territoriali tra queste due definizioni, quindi questo è un bene, perché questo favorisce la sinergia tra le due politiche. Sono nella logica di fondo anche molto simili, perché i GAL e i piani di azione locale presentano dei progetti che dovrebbero essere progetti sperimentali, innovativi, così come nello stesso modo dovrebbe essere la strategia di aree interna. La differenza è nel partenariato, fondamentalmente, perché nel caso del leader il partenariato è pubblico-privato, nel caso della strategia di aree interna è prevalentemente pubblico, nel senso che è prevalentemente costituito da un'associazione di comuni che definiscono un accordo di programma a quadro e che è l'analogo del piano di azione locale del gruppo del GAL. Un'altra differenza è nelle politiche coinvolte, cioè il programma leader è fondamentalmente finalizzato allo sviluppo locale, mentre la strategia di aree interne non guarda solo allo sviluppo locale, ma guarda anche a tutta una serie di servizi fondamentali per la popolazione residente nelle aree interne che sono sanità, scuola e trasporti. La politica di sviluppo rurale è diventata in Italia forse una delle politiche più importanti di finanziamento dell'agricoltura, perché nel corso degli anni, anche perché il bilancio pubblico, come sapete, molto bene è stato sottoposto a diverse budget review e quindi anche le politiche agricole sono state soggette a riduzione nel corso degli anni, sia quelle nazionali, sia quelle regionali. Quindi nel tempo le politiche di sviluppo rurale non solo sono diventate sempre più importanti, perché come vedremo hanno aumentato le risorse, ma sono diventate importanti anche perché non ci sono grandi politiche nazionali o regionali che supportano l'agricoltura come stanno facendo le politiche di sviluppo rurale. Quindi l'Europa, da questo punto di vista, ha fornito degli strumenti e delle risorse fondamentali per le aree rurali. E lo vedete benissimo in questo grafico dove si vede che mentre le politiche UE che finanziano l'agricoltura sono in crescita nel corso degli anni, le politiche nazionali e le politiche regionali sono sostanzialmente o nel caso delle politiche nazionali in riduzione o nel caso delle politiche regionali tutto sommato hanno una tendenza alla riduzione. Le politiche di sviluppo rurale 2014 e 2020 tra finanziamento nazionale e cofinanziamento comunitario ammontano a circa 21 miliardi di euro. Non sono 10 miliardi di euro ma sono 21 miliardi di euro. Sono 10 quando pensiamo soltanto al contributo comunitario ma se mettiamo dentro anche il cofinanziamento nazionale arriviamo a una cifra doppia e come vedete nel 2014 e 2020 abbiamo un incremento di circa il 20% rispetto al periodo 2007-2013. Gran parte di queste risorse da gran parte di questi 21 miliardi sono a favore dei programmi regionali. Noi non abbiamo abbiamo due programmi nazionali uno per la rete per la rete nazionale e un altro per un programma nazionale che finanzia alcune misure poche misure ma però gran parte della politica di sviluppo rurale quando parliamo di una politica fondamentalmente regionale che serve a dovrebbe servire a rispondere a quelli che sono i bisogni manifestati dai territori fondamentalmente. Se noi guardiamo a come si distribuisce questa politica di sviluppo rurale tra le sei priorità di cui vi ho parlato all'inizio notiamo che diciamo una prima di tutto c'è una differenza tra regioni più sviluppate e regioni meno sviluppate quando parliamo di regioni meno sviluppate intendiamo tutte le regioni quelle nella nomenclatura comunitaria naturalmente quelle che sono le regioni del mezzogiorno meno l'Abruzzo e le regioni più sviluppate sono le regioni del centro nord per la nomenclatura comunitaria in questo caso quindi diciamo le misure che favoriscono la competitività per esempio sono più rilevanti abbiamo un 25% contro 20% nelle regioni meno sviluppate anche perché giustamente questo risponde a dei criteri di priorità che hanno dietro un maggior fabbisogno di ristrutturazione nelle regioni del mezzogiorno e diciamo nelle regioni del mezzogiorno c'è anche un grosso peso delle misure che vanno a vantaggio degli ecosistemi agricoli le misure invece che riguardano l'inclusione sociale e lo sviluppo territoriale hanno in realtà un peso che possiamo dire diciamo essere intorno al 12-13% del budget complessivo indipendentemente dalle regioni considerate la spesa per lo sviluppo rurale è una spesa che ha comunque nel corso degli anni delle difficoltà come si spendono queste risorse quanto velocemente si spendono questo è un tema che non riguarda solo le politiche di sviluppo rurale ma riguarda un po' tutte le politiche comunitarie che sappiamo essere caratterizzate da estrema difficoltà di attuazione estremi ritardi e qualche volta anche questi ritardi producono delle perdite di risorse per il paese nel suo complesso quello che vedete in questo grafico è sostanzialmente l'andamento della spesa per le politiche di sviluppo rurale nel loro complesso indipendentemente dal tipo di misura che stiamo considerando nelle due programmazioni precedenti nel 2000 2007 2008 e 2007 2014 15 perché voi sapete che i pagamenti mentre il periodo di programmazione è diciamo settennale poi in realtà per i pagamenti il periodo di riferimento è un po' più ampio perché comprende anche i due anni successivi alla fine della programmazione ufficiale quindi nel caso del 2000 2006 noi abbiamo anche pagamenti nel periodo 2009 e nel caso del 2007 2013 abbiamo pagamenti fino al 2015 la programmazione si chiude a un certo punto però la possibilità di pagare i fondi di pagare gli impegni assunti è ancora possibile per altri due anni allora in questo grafico ho cercato di rappresentare l'evoluzione della spesa nel suo complesso e quello che si vede fondamentalmente se guardiamo diciamo l'Italia nel nel suo complesso è che la spesa cresce i pagamenti questi sono pagamenti effettivi i pagamenti crescono gradualmente nel corso degli anni si vede che la macchina non parte come dire non parte immediatamente parte con un po' di fatica con un po' di stento e la macchina prima di entrare nel regime diciamo ci mette ci mette del tempo e forse diciamo questo è il motivo per cui vedete che i picchi di spesa sono nel periodo più avanzato della programmazione in entrambi le programmazioni che considerate per esempio nel 2000 nella prima periodo di programmazione il picco è nel 2005 e siamo partiti nel 2000 nel secondo periodo il picco è addirittura a livello nazionale è nel 2014 è un picco più piccolo c'è nel 2011 quindi stiamo parlando di 4 anni dopo l'avvio della programmazione quindi la spesa cresce cresce lentamente cresce lentamente gradualmente nel corso degli anni e diciamo il grosso della spesa si ha grosso modo negli anni finali della programmazione questo è vero nel paese ma è ancora più vero se andiamo a guardare le regioni del mezzogiorno nel loro complesso nelle regioni del mezzogiorno ecco prendiamo in considerazione il primo periodo il centro nord esaurisce le sue risorse quasi totalmente nel 2007 mentre in mezzogiorno continua ancora a spendere ancora risorse da spendere perché non ha ancora completato diciamo la chiusura dei progetti dei singoli progetti nel secondo nel secondo periodo diciamo le differenze sono meno evidenti ma se consideriamo alcune misure forse misure significative vedremo che invece continuano a esserci nella visione globale non si notano grosse differenze come nella programmazione 2014 2000 2006 il mezzogiorno se andiamo a vedere per esempio gli investimenti gli investimenti nelle aziende agricole e nell'industria di trasformazione cosa succede? succede che il centro nord praticamente come abbiamo visto finisce di spendere le risorse nel 2007 mentre il mezzogiorno continua ancora nel periodo successivo è come se se questa diciamo se questa la spesa del mezzogiorno fosse gradualmente spostata fino avanti di due anni rispetto a quella del centro nord e e poi l'altro l'altro aspetto è che il centro nord parte con diciamo maggiore rapidità mentre il mezzogiorno affatica un po' di più nel caso invece degli pagamenti per il sostegno delle pratiche delle buone pratiche agricole nelle aziende che è un'altra misura importante che assorbe molte risorse finanziarie le differenze tra la prima di tutto l'andamento della spesa è diverso vedete perché sono misure che sono erogate con criteri di selezione meno complicati e meno selettivi diciamo così basta avere dei requisiti e quindi la spesa va nelle misure in cui non è forte la selezione degli investimenti perché non ci sono investimenti ma ci sono semplicemente degli aiuti ad ettaro allora la spesa è molto più semplice e questa è anche una delle ragioni per cui molte regioni diciamo poi nel corso della programmazione rimodulano la spesa a vantaggio di questa misura qui e quello che succede è che poi diciamo il rapporto tra spese programmate e spese tra pagamenti e spese programmate è molto favorevole perché si finisce per questi tipi di pagamenti agroambientali di spendere di più di quanto si era programmato se voi vedete nel periodo 2000-2006 diciamo a livello nazionale avevamo programmato quasi 3,7 miliardi ne abbiamo spesi circa 4 quindi sono misure in cui la spesa tira tira molto sull'utilità di queste misure questo è un altro discorso varia da regione a regione da caso a caso però vedete come diciamo alla fine si riesce a utilizzare un tipo di intervento che ha una sua forte domanda a livello di imprenditori agricoli invece un altro tipo di investimenti per la diversificazione delle economie rurali e il miglioramento della qualità della vita e qui mettiamo tutti quegli investimenti che per esempio vanno per il turismo rurale o per l'artigianato o per i servizi alla popolazione allora questi tipi di investimenti hanno hanno un andamento della spesa che è particolare nel senso che anche qui come vedete il centro nord riesce a partire molto prima molto più rapidamente del mezzogiorno e il mezzogiorno arriva con un grande affanno perché riesce a spendere avere il suo picco due anni dopo che il centro nord ha realizzato i propri pagamenti quindi diciamo se nella capacità di spesa esiste un problema fondamentale regionale che in qualche modo bisogna considerare ed è paradossale questo perché se pensate che le regioni del mezzogiorno sono quelle che hanno più bisogno in queste aree di attivare del processo di sviluppo e di diversificazione delle economie locali e sono proprio quelle regioni che riescono di meno a farlo nel panorama nazionale e questo che cosa significa significa che poi alla fine noi riusciamo a spendere di meno di quanto abbiamo programmato per questo tipo di misure e questo è evidente molto evidente nella programmazione più recente 2007-13 nel mezzogiorno noi avevamo circa 0,8 miliardi da spendere ne abbiamo spesi 0,57 0,58 nel mezzogiorno quindi diciamo con una sostanziale incapacità e questo che cosa significa? Significato che queste risorse sono poi state dirottate su altre misure e sono servite per alimentare altre misure che invece avevano un tiraggio maggiore ma questo non è stato positivo perché c'è una forte fabbisogno di investimenti nella diversificazione delle economie rurali per concludere i fattori di spesa i fattori di spesa perché abbiamo questa difficoltà di spendere in alcune regioni e perché abbiamo difficoltà di avviare cioè noi se ci pensiamo questa è la la quarta programmazione quindi abbiamo dovremmo avere una capacità di gestire questi fondi invece quello che sta succedendo è che la capacità di gestire i fondi non migliora gradualmente nel tempo perché allora prima di tutto c'è un problema di dettaglio di questi programmi i programmi sono più centrati sulle misure e meno sulla strategia e questo richiede tempi lunghi per la preparazione dei programmi partiamo in ritardo perché i tempi di preparazione dei programmi sono eccessivi e ogni volta il quadro normativo cambia e quindi noi per adattarci al quadro normativo abbiamo bisogno di tempo e di capire come preparare i programmi e questo significa partire ogni volta con ritardo in questo devo dire che anche la Commissione Europea ci mette una bella responsabilità il secondo motivo è da individuare nelle procedure di attuazione queste procedure devono essere monitorate con attenzione i tipi di bandi la durata i criteri devono essere monitorati con molta più attenzione del passato invece non lo sono la capacità delle strutture tecnico-amministrative è un ulteriore punto debole non migliora nel tempo il che contribuisce a spiegare perché il mezzogiorno è sempre qui in affanno rispetto al centro-nord e infine non ultimo in ordine di importanza c'è un problema di capacità di risposta anche delle imprese potenzialmente beneficiarie perché nella crisi che abbiamo vissuto che ha comportato anche difficoltà di eccesso al credito processi di razionalizzazione dell'industria agroalimentare molte aziende hanno rinunciato a a far domanda o anche quando hanno fatto domanda poi hanno rinunciato al finanziamento di fatto quindi diciamo questo è un elemento molto importante che ha condizionato poi la velocità della spesa e questo è quanto grazie dell'attenzione ovviamente e grazie a l'IFE per questa opportunità di poter spiegare le politiche di gioco l'urana benissimo adesso ringraziamo il dottor Mantino adesso lasceremo la parola alla dottoressa Zumpano e auguro a tutti gli utenti un buon proseguimento prego dottoressa lei la parola buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti anch'io come il collega Franco Mantino lavoro al CREA mi occupo di sviluppo rurale quindi seguo sia le politiche ma anche le politiche sia da un punto di vista della ricerca ma anche come supporto alle varie istituzioni presenti sulle diverse scale territoriali Franco nella sua presentazione faceva riferimento a un programma nazionale cofinanziato qui in Italia dalle politiche di sviluppo rurale ma in realtà è cofinanziato in tutti gli stati membri e che è una specificità anche dello sviluppo rurale che è la rete rurale nazionale la rete rurale nazionale appunto è un programma che è sotto la responsabilità del ministero delle politiche agricole e forestali ed ha la finalità di dare del supporto alle autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale per realizzare quanto previsto da questi programmi naturalmente essendo un programma nazionale il tipo di supporto che viene ad essere offerto è un supporto che si concentra soprattutto su tematiche di rilevanza nazionale che soprattutto hanno anche degli aspetti delle criticità di natura trasversale il ministero nel svolgere questo programma si avvale di alcuni istituti e fra questi rientra il nostro il CREA che è appunto responsabile di alcune attività progettuali per quanto riguarda appunto il programma della rete diciamo per quelle anche di nostra competenza quelle attività che si interfacciano soprattutto con la presenza degli enti locali e quindi anche dei comuni sono soprattutto tre la prima è quella di cui parlava anche Franco e che riguarda appunto la strategia delle aree interne poi abbiamo siamo anche quelli che hanno la responsabilità di fornire supporti anche attività di animazione per quanto riguarda l'approccio leader e poi una novità che è stata introdotta in questa fase e di quella in cui vi parlerò in particolare oggi è un'attività che è stata pensata a misura degli enti locali nel senso che veniva detto prima che gli enti locali da un bel po' di anni hanno assunto un ruolo sempre più cruciale nella realizzazione delle politiche di sviluppo rurale ed è anche interessante anche il termine che ho stato franco in qualche modo cioè l'agricoltura ha subito un po' anche la presenza di soggetti diversi da quelli del mondo agricolo e che quindi è una realtà nuova che è cambiata dove appunto l'attenzione si è spostata dall'agricoltura al territorio e quindi la necessità anche di tener conto di tutto quello che ruota attorno all'agricoltura questo naturalmente se lo si dà per scontato in realtà non lo è nel senso che mentre per quanto riguarda almeno il settore agricolo c'è tutto un settore organizzato e ben rappresentato per quanto riguarda invece tutto quello che riguarda gli altri settori ci sono più difficoltà proprio per questo quindi noi ci siamo posti la domanda insomma cosa si può fare per poter far sì che il ruolo di questi soprattutto degli enti locali nello sviluppo rurale raggiunga livelli anche di efficacia ed efficienza nella realizzazione degli interventi allora abbiamo pensato appunto dedicare un'attività progettuale specifica che è appunto questa scheda progettuale di cui vi parlavo in effetti se dal punto di vista formale l'obiettivo e la finalità è quello appunto di migliorare la performance degli interventi riconducibili agli enti locali in realtà per noi questa attività è una sorta di investimento un investimento che è rivolto ai due soggetti principali cioè da una parte le autorità di gestione perché diventino prendano prendano atto insomma della presenza di questi soggetti che appunto svolgono sempre un ruolo sempre più importante sul territorio e che quindi nel momento in cui si elaborano e si programmano i piani di sviluppo rurale questi non possono essere fatti insomma dando per scontato quello che è necessario a livello locale ma di come in qualche modo vanno attivate delle azioni che raccolgano gli effettivi fabbisogni di questi territori naturalmente sempre all'interno di un programma di sviluppo rurale che discende da una serie di regolamenti che sono dettati a livello europeo però questo non vuol dire che non ci siano anche dei margini di flessibilità e dall'altro lato appunto ci sono gli enti locali quindi la necessità che proprio per questo aumento di responsabilità e anche di visibilità all'interno di questi programmi e questo comporta anche un'assunzione di maggiore responsabilità nel momento in cui si diventa anche fruitori di queste risorse e questo lo dico perché anche dal tipo di analisi che stiamo facendo sono emerse molte criticità criticità che in qualche realtà regionale ha anche frenato l'azione delle autorità di gestione cioè visto che è una criticità anche abbastanza complessa piuttosto che cercarne la soluzione hanno preferito diminuire le risorse destinate a quella tipologia di investimenti che vedono gli enti locali come beneficiari quindi soprattutto di infrastrutture sto parlando se non attraverso invece delle scelte che vedono invece un ruolo principale da parte della regione quindi noi però partendo da come dicevo puntando per scontato la presenza degli enti locali non è stata mai fatta una riflessione specifica sulla loro partecipazione e sugli eventuali fabbisogni da parte di questa tipologia di beneficiari e quindi come prima attività abbiamo pensato di condurre appunto uno studio che non è una ricerca finalizzata a se stessa ma io la definirei una ricerca azione nel senso che se da un lato appunto la necessità di rilevare i fabbisogni e anche le criticità per poter poi delineare delle attività nello stesso tempo però abbiamo anche previsto che al momento in cui le rileviamo cerchiamo anche di dare delle risposte naturalmente entrare quindi entrare in contatto appunto con gli enti locali che è appunto una tipologia di beneficiari diversa da quella tradizionale con la quale insomma si è abituata a interloquire quando si lavora sulle politiche agricole ci ha portato naturalmente alla necessità di avere anche degli interlocutori istituzionali che ci potessero anche aiutare e anche soprattutto rappresentativi per questo abbiamo avviato una collaborazione con l'IFEL che è durante la tecnico struttura del Lanci affinché appunto ci affiancasse in questa attività nello stesso tempo stiamo cercando anche la collaborazione anche delle rappresentanze regionali del Lanci perché ci aiutino anche in qualche modo anche a fare la cassa di risonanza rispetto a quello che si va a rilevare sul territorio Franco lo diceva prima in effetti appunto quindi la presenza degli enti locali c'è all'interno delle politiche di sviluppo rurale e soprattutto gli enti locali sono chiamati a svolgere dei ruoli molteplici noi abbiamo cercato un po' di prima di tutto i settori di intervento dove li troviamo sono quasi tutti quelli che vengono toccati dalla politica di sviluppo rurale quindi da quello forestale a quello agricolo a quello ambientale a quello rurale pensando un po' alle infrastrutture e qualità della vita le tipologie di intervento appunto quello che sono riportate un po' sulla slide dalle infrastrutture anche sia materiali che immateriali però soprattutto quello che è importante è capire come appunto il ruolo è molteplici e quindi a seconda del ruolo che si ricopre possono essere anche avviate delle attività anche di riflessione e di supporto in effetti ci sono delle misure in cui gli enti locali sono diretti beneficiari degli interventi ci sono invece in altre in altre c'è un coinvolgimento indiretto nel senso che in alcuni casi sono componenti di un partenariato locale e venivano citate l'esperienza leader anche quello delle aree interne e lì i comuni svolgono un ruolo strategico nel momento in cui si fanno delle scelte non più progettuali ma di sistema e di aria e lì c'è tutto il discorso appunto anche dell'associazionismo e di una visione un po' più integrata del territorio spesso i comuni sono strategici per l'attuazione di alcune misure perché sono quelli che devono poi concedere delle autorizzazioni ad esempio l'ampante è sempre l'agricoltura sociale dove non si può fare questa attività se non si riceve una licenza da parte del comune in cui si opera e quindi c'è la necessità anche di capire e di conoscere questo tipo di attività da parte di chi deve poi concedere delle autorizzazioni gli enti locali spesso sono chiamati in effetti in un secondo momento poi a gestire le strutture e i servizi che vengono creati e non solo quando vengono creati direttamente dagli enti locali ma anche da altri ad esempio i servizi a chiamata quando vengono a essere recuperate che ne so dei centri culturali che siano a fruizione pubblica e lì si pone anche un problema della sostenibilità anche finanziaria di queste strutture nel tempo e gli enti locali possono anche svolgere una funzione di come dire come dicevo anche prima da cassa di risonanza a livello locale nel senso che sono gli enti che possono informare sensibilizzare la popolazione anche sulle opportunità che vengono offerte da questi programmi naturalmente nel momento in cui l'ente locale si trova a confrontarsi con questo tipo di programma che come è stato detto è molto complesso ci sono ancora molte regole che sono spesso anche ridondanti e che bisogna anche attenersi a regole che vengono cambiate spesso nel tempo ad esempio c'è tutta la normativa sugli apparti pubblici ma anche c'è tutto il problema di fare riferimento anche a tutta la politica di decentramento che è oggetto di modifiche continue nel nostro paese però è anche vero che l'ente locale all'interno di queste politiche può avere dei margini di manovra e anche di intervento che possono essere molto interessanti e che soprattutto in quanto enti locali possono essere oggetto di facilitazioni rispetto invece al soggetto al soggetto privato quello che però è un'altra cosa che bisogna partire è il capitale umano che viene ad essere messo a disposizione per poter usufruire di queste opportunità cioè che spesso in effetti parliamo di piccoli comuni che non hanno la forza e la capacità di poter affrontare delle attività progettuali ma come anche spesso mancano anche le competenze di base per poterlo fare noi naturalmente per poter capire di che cosa stiamo parlando siamo partiti dalla programmazione 2007-2013 i PSR sono complessi è molto difficile di prima acchito cercare di ricondurre gli interventi appunto a valenza di enti locali in una macro area anche perché appunto come penso molti di voi avremmo avuto modo di vedere anche di toccare con mano la stessa tipologia noi naturalmente abbiamo fatto un'analisi a livello nazionale e la stessa tipologia di investimento spesso l'abbiamo riscontrata in misure diverse questo naturalmente ha creato anche molta modalità di attuazione di differenti che ha creato anche delle situazioni di forte disequilibrio fra le varie regioni noi abbiamo cercato di individuare i tre macro ampli principali abbiamo le infrastrutture viarie di rete dove qui abbiamo tutta una serie di tipologie di interventi dagli acquedotti elettrodotti fognature tutte le ICT ma anche banda larga la viabilità per la collettività e anche quella interpoderale poi abbiamo fatto un blocco che riguarda le infrastrutture turistiche sia materiali che immateriali quindi sia dalla costruzione e anche dalla sia dalla costruzione ma anche dal rendere in effetti fruibile ad esempio i detenerari turistici compresa non solo la tracciabilità del percorso ma anche la segnaletica i chioschi i centri di accoglienza ma anche tutta quell'attività e materiale che riguarda la promozione dei luoghi e poi c'è tutto il discorso delle infrastrutture sociali che riguardano appunto i servizi alla popolazione quindi i servizi per la mobilità i servizi socioassistenziali anche quelli culturali c'è anche tutta una parte che riguarda anche la produzione di energia pubblica di energia rinnovabile a finalità pubblica tutto il recupero del patrimonio culturale compresi tutti i manufatti che sono sparsi un po' sul territorio e ci sono anche tutti quegli interventi naturali e materiali ad esempio tutti gli studi di fattibilità come i piani di gestione naturali le banche dati che possono essere di supporto per altre attività e c'è anche tutta un'attività anche di natura economica di servizi che vengono ad essere rivolti alle imprese quindi la sistemazione ad esempio di aree mercatali di sportelli informativi alle singole alle singole agli operatori economici del territorio qui voglio fare un vi faccio un esempio nel secondo come ho detto ci sono delle ci sono appunto le misure dove appunto sono beneficiari gli enti locali non vi dico la regione anche perché è abbastanza critica la situazione quindi quello che ci interessa è mettere in evidenza perché ci siamo occupati anche di questa di questa tematica e della misura la vecchia misura 125 del vecchio PSR che riguardava appunto il miglioramento delle infrastrutture a livello a livello locale e qui beneficiari appunto le amministrazioni pubbliche gli enti pubblici economici e venivano ad essere finanziate una serie di attività che vanno appunto dal settore della rete idrica rurale a quella anche delle piste forestali nonché a quello dell'ammodernamento delle strade delle strade rurali è interessante vedere come inizialmente le risorse stanziate erano soltanto 13 milioni di euro e al fine del 2014 quindi quasi in chiusura salgono circa 80 milioni di euro e questo è spiegato e questo in effetti fa parte un po' del mondo complesso di come trovano collocazioni di enti locali all'interno della politica di sviluppo rurale cioè delle criticità nel senso che se da una parte viene spesso in effetti detto come gli interventi che vedono protagonisti gli enti locali sono interventi complessi e che ritardano la spesa dall'altra parte spesso con la spada di Damocle dell'avanzamento finanziario dei programmi si fa riferimento agli enti pubblici perché con gli enti pubblici in qualche modo si può fare una volta si usava il termine sponda e quindi si può in qualche modo fare spesa quindi questo spiega anche perché a un certo punto tutte le risorse sono state destinate ai comuni però questo naturalmente come dire rende un po' distorta l'azione dei piani perché naturalmente non dà la possibilità di programmare di fare degli enti efficienti sul territorio ma si ricorre invece il progetto magari che è già un po' è già disponibile e questa altra tabella invece vi dà l'idea di come in effetti i ritardi ci siano e siano molto forti e ad esempio voi vedete per questa misura dei progetti ammessi a finanziamento 110 di cui i comuni beneficiari 106 ne sono stati chiusi soltanto 28 tutti gli altri sono transitati nella nuova programmazione allora lì c'è un problema ci sono diversi problemi e che in parte trovano risposta in questa in questa slide che è il risultato di una lettura trasversale che abbiamo fatto delle delle relazioni annuali di chiusura dei programmi di sviluppo rurale e che preciso è il punto di vista come dire istituzionale formale con la nostra attività l'ho già detto e lo ripeto a noi interessa anche il punto di vista degli enti locali quindi questa questa slide verrà anche arricchita dal punto di vista degli enti locali però come voi vedete in effetti le criticità rilevate sono diverse e noi abbiamo cercato di condurle a delle macro aree che possono essere state dal fatto dalla numerosità delle domande che porta a una frammentarietà degli interventi richiesti sia su scala comunale su scala intercomunale e questo comporta anche la necessità di riflettere sul ruolo dell'associazionismo anche all'interno di questo programma come facilitarlo e come anche premiarlo questo tipo di collaborazione fra enti e locali c'è anche un problema anche del riordino degli enti intermedi che ha portato normalmente i comuni spesso ad agire in maniera anche isolata e quindi mentre prima in qualche modo c'era un punto di riferimento dalle province e le comunità montane adesso spesso si sono un po' isolati nell'intervenire su questi temi c'è una l'abbiamo già detto una difficoltà a gestire spesso a livello locale questa tipologia di interventi sia per una competenza che non sono formate sulle specificità di questo programma oppure le competenze non sono disponibili perché parliamo appunto di comuni molto piccoli c'è una carenza anche di progetti esecutivi già pronti ma non nel senso che fanno sponda ma nel senso che spesso non c'è una programmazione a monte del comune dell'ente locale che possa quindi utilizzare a momento opportuno l'opportunità che viene offerta anche dal programma di sviluppo rurale ma si ricomincia da zero e questo naturalmente comporta dei tempi molto lunghi e non permette al comune di rispondere nei tempi indicati dai bandi che vengono ad essere emessi viene anche citata una scarsa qualità dei progetti presentati e questa naturalmente è testimoniata anche dall'alta percentuale di progetti che non vengono ad essere che non sono ammessi c'è una scarsa anche una scarsa di risorse finanziarie a livello locale che non permette ai comuni in quelle realtà regionali in cui questo è previsto di poter accedere alle anticipazioni così come anche alla sostenibilità di queste opere nel tempo c'è tutta la problematica della richiesta di autorizzazioni concessioni per la realizzazione delle opere ad esempio qualche volta si deve chiedere il parere appunto della sovrintendenza dei beni culturali o di altri soggetti che naturalmente allunga di parecchio i tempi e tutta una serie anche di altre problematiche una ad esempio di quella che è presente sulla quale vorremmo intervenire che c'è ad esempio un linguaggio non uniforme nei vari programmi di sviluppo rurale e quindi anche un utilizzo anche spesso improprio dei termini tecnici perché appunto va pensato che se per i comuni è una novità lo è anche per le autorità di gestione nonostante appunto dieci anni però spesso si usa ad esempio in maniera indiscriminata l'unione dei comuni come associazionismo invece l'unione dei comuni come strumento giuridico e si fa una confusione tra progetto fattibile cantierabile esecutivo insomma e anche altri e anche altri termini come anche il fatto che appunto i progetti degli enti locali vengono a essere trattati alla stregua di un progetto che è pensato per le aziende agricole quindi è previsto un fascicolo aziendale quando in realtà appunto per gli enti locali forse si potrebbe anche pensare a qualche altra cosa questo vi dà un po' il quadro delle misure che interesseranno gli enti locali nella nuova programmazione non ho inserito le misure forestali perché quelle saranno appunto oggetto di un lavoro specifico perché abbiamo un gruppo che è specializzato su questa tematica questa si tratta principalmente della misura 4 5 7 16 e quando dico 4 intendo gli investimenti in immobilizzazioni i materiali sono soprattutto quelle ad esempio devono i piccoli interventi per poter far accedere l'azienda agricola alla banda larga oppure i servizi di ITC oppure per amodernare un po' l'azienda che richiede appunto degli interventi da parte degli enti locali c'è tutta la parte 5 che riguarda invece la misura 5 che riguarda tutte le misure per il che riguardano il ripresione del potenziale produttivo danneggiato appunto da calamità naturale e quindi tutte le attività di prevenzione e abbiamo anche soprattutto e quello secondo me il cuore la misura 7 che va un po' che riguarda tutte le infrastrutture materiali e immateriali i servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle aree rurali quindi che sostiene va dai servizi comunali anche a tutti gli altri alle infrastrutture tipo strade appunto acquedotti quello di cui parlavamo prima ma anche le infrastrutture turistiche tutto quello che ho fatto vedere nel macro cioè la differenza tra la vecchia e la nuova programmazione che forse questa è un po' più chiara perché il cuore degli interventi è raccolto in una sola misura appunto la misura la misura 7 poi c'è anche un'altra misura che viene recitata da Monaco questa mattina ed è anche stata ripresa da Franco è quella della cooperazione dove qui però il ruolo dei comuni è più un ruolo anche soprattutto indiretto facendo parte come componente di un partenariato e quindi di supporto alle strutture che ai partenariati che si vanno a formare e questo vi dà l'idea un po' delle abbiamo cercato un po' di pesare un po' le misure che sono state nella vecchia programmazione finalizzate agli enti locali e come vedete insomma non sono tantissime però non sono neanche insomma poche considerando anche appunto la penuria delle risorse finanziarie che ci sono che sono in giro certo il 10% del PSR non è tantissimo però è anche vero che ci sono anche tante altre risorse in cui appunto gli enti locali intervengono in maniera indiretta però sicuramente quello che va detto è che forse il PSR a differenza degli altri programmi è pensato soprattutto per le aree per le aree rurali e quindi in qualche modo destina le sue risorse verso una parte del territorio che altrimenti andrebbe in competizione con i grossi centri quindi avrebbe più difficoltà ad accedere e queste invece sono appunto le risorse che sono previste per il nuovo il nuovo il nuovo programma c'è stato un aumento di questo di questo di questo di questo ammontare anche se però non riguarda appunto tutte le regioni ma anzi in alcune regioni come dicevo prima c'è stata proprio una rinuncia a questo tipo di investimenti proprio per semplificarsi un po' la vita come ultima per quanto riguarda appunto le attività progettuali che stiamo mettendo in campo e quella che alcuni dei risultati che vi ho dato in effetti sono frutto di questo censimento che stiamo facendo sulla programmazione 2007-2013 perché da qualche parte insomma dovevamo partire e quindi abbiamo cercato di capire insomma l'impatto di questo programma sulle attività degli enti degli enti locali e poi per avere anche un riscontro a livello operativo abbiamo individuato cinque regioni campione che sono appunto il Veneto e la Mila Romagna la Liguria la Puglia e la Calabria con le quali abbiamo appunto iniziato un dialogo che è finalizzato appunto da una parte approfondire le tematiche le problematiche che abbiamo riscontrato e altre se ne andranno ad aggiungere e dall'altro per cercare proprio appunto di raggiungere gli enti locali attraverso appunto degli eventi dei workshop che faremo all'interno di queste regioni per poter quindi anche recepire i loro fabbisogni e questo lo faremo appunto come dicevo con la collaborazione sia dell'IFEL che dell'ANCI soprattutto delegazioni regionali abbiamo già fatto due delle riunioni già nel Veneto e nell'Emilia Romagna prossimamente le faremo nelle altre tre e il 2017 dedicato soprattutto a questo tipo di eventi naturalmente tutto quello che uscirà fuori da questi incontri sarà nostra cura poi renderlo insomma capitalizzarlo e renderlo accessibile anche a livello nazionale parallelamente abbiamo previsto anche la redazione di un opuscolo divulgativo che in qualche modo possa aiutare insomma l'operato dei responsabili di misura che non sempre appunto quando lavorano con gli enti locali hanno la contezza insomma dell'universo che si muove attorno agli enti locali di che cose in effetti si sta mettendo in moto però un opuscolo che diventi anche utile anche agli stessi enti locali che si avvicinano a queste misure una sorta anche di sorta di checklist per dire cosa va fatto e cosa non non va fatto faremo anche continueremo lo ha detto già Francesco prima a Monaco con alcuni seminari insomma di questo anche di questo tipo per poter affrontare tematiche che ci verranno segnalate di volta in volta partiremo con tre ma naturalmente l'intenzione è quella di continuare la cooperazione e quindi di rafforzare questo tipo di formazione penso che uno dei prossimi sarà dedicato alla nuova normativa che riguarda gli apparti pubblici naturalmente tutto quello il lavoro che stiamo facendo andrà a confluire in un rapporto tecnico con l'intenzione poi di fare anche un incontro a livello nazionale perché si possa poi veramente decidere come appunto proseguire su questo tipo di attività e quindi come rafforzare il sostegno della rete rurale alla partecipazione degli enti locali all'interno delle politiche di sviluppo rurale ecco questo è tutto grazie benissimo allora ringraziamo i nostri relatori c'è una domanda che non so se è possibile dare una risposta chiedono quali sono le 5 regioni campione dove farete il workshop sono Veneto Emilia Romagna Liguria Puglia e Calabria abbiamo scelto queste regioni secondo due criteri il primo è stato perché alcune di queste regioni ci hanno proprio chiesto all'inizio quando ancora dovevamo avviare questa attività un'attenzione su questa tematica e quindi di conseguenza l'abbiamo raccolta altre perché abbiamo ci siamo adessi conto che dalla lettura della vecchia programmazione avevano degli elementi molto critici e quindi ci servivano sia delle situazioni un po' più avanzate altre che invece avevano più difficoltà per cercare di avere un po' un quadro il più omogeneo possibile a livello nazionale però ripeto questa è un'attività che riguarda il 2017 ma l'intenzione è quella poi di estendere questo tipo di attività a livello nazionale benissimo allora io ringrazio i nostri relatori la dottoressa Zumpano e il dottor Mantino per essere stati con noi ringrazio tutti gli utenti per aver partecipato a questo webinar vi ricordo che il materiale quindi slide registrazione video saranno disponibili da domani nella sezione documenti e pubblicazioni nell'area materiali didattici del nostro portale io allora concludo questo webinar salutando tutti e augurandovi un buon proseguimento grazie a tutti e arrivederci